La campagna elettorale appena cominciata si infiamma sul caso Russia-Lega. Secondo la stampa che fa riferimento a fonti di intelligence, a fine maggio un funzionario dell'ambasciata russa chiese un emissario di Salvini se i ministri leghisti avessero fatto cadere il governo Draghi ed esplode la polemica. Letta chiede che se ne occupi il Copasi, il reggello da Fratelli d'Italia che parla di vicende da chiarire, Salvini replica duro, fake news arriveranno smentite istituzionali e il sottosegretario ai servizi Gabrielli fa sapere la fonte non è l'intelligence, notizie prive di fondamento. Il caso Russia irrompe sulle centrodestra l'indomani dell'accordo su candidature leadership, un'intesa che segna la vittoria di fatto della Meloni, sarà il partito che ha più voti a proporre il premier. A Fratelli d'Italia andrà il 44% dei candidati nei collegi uninominali, alla Lega il 32%, il restante a Forza Italia e Udc e Berlusconi dice Giorgia ha le carte in regola per guidare il governo. Nel centro-sinistra ancora da risolvere il rebus alleanze, resta sul tavolo la questione Renzi. Letta mi ha chiamato sabato, vedremo, dice il leader di Italia Viva, ma nel Partito Democratico sono forti le resistenze all'accordo, intesa chiusa invece con Di Maio che dovrebbe organizzare una lista aperta sindaci e civici, supportato da Beppe Sala. Nel Movimento 5 Stelle conta sempre le prese con il tetto dei due mandati dopo il diktat di Beppe Grillo. Bisogna trovare il modo di valorizzare competenze ed esperienza, dice il leader pentastellato che assicura decideremo in settimana. L'industria italiana continua a crescere, secondo i dati Istat il fatturato a maggio è salito dell'1,6% su aprile e di oltre il 23% sull'anno scorso, un dato che non si registrava dal 2000. Critiche le associazioni dei consumatori, secondo cui la crescita è dopata dall'inflazione. E tra gli italiani resta profondo scetticismo sul futuro economico, siamo tre paesi con minore fiducia in Europa. Wuhan, la città cinese epicentro della pandemia Covid, torna sotto lockdown. Circa un milione di persone in isolamento per quattro casi asintomatici. In Italia intanto si studiano le misure per una ripartenza in sicurezza dell'anno scolastico, ma senza mascherine, puntando soprattutto sulla reazione. Ma sono ancora pochissime le scuole che hanno messo a punto sistemi di ventilazione per la seconda settimana consecutiva calano i contagi. Frane e allegamenti nelle Bresciano con l'arrivo di fortissimi temporali dopo il lungo periodo di siccità. Non ci sono feriti, ma ingenti danni in due comuni. Nelle valli delle Carso, dopo un periodo di tregua, tornano gli incendi. Evacuate 25 famiglie. Chiuse nella notte una strada statale e una linea ferroviaria. Il sindaco di Gorizia denuncia si tratta di focolai dolosi. Buongiorno e ben trovato a tutti voi dalle telegiornale della Sette. Lo avete sentito nei nostri titoli. Apriamo con l'ultimo caso, l'ultima vicenda che sta infiammando proprio in questo momento l'inizio della campagna elettorale. Secondo il quotidiano La Stampa, che riporta un documento dell'intelligence, emergerebbero interessi di Mosca per le sorti del governo italiano con contatti segreti tra esponenti della Lega e una funzionaria dell'ambasciata russa in Italia. Immediate sono state le reazioni dei partiti con il Partito Democratico Italia Viva che chiedono che questo caso venga portato davanti al Copasir. Insomma, tutti i partiti chiedono dei chiarimenti. Questa mattina è intervenuta, c'è stata la replica del leader leghista Salvini. Gravissimo diffondere fake news. Arriverà una smentita istituzionale, ha detto Salvini. Il sottosegretario Franco Gabrielli sottolinea che sono notizie non attribuibili all'intelligence. Cominciamo da qui. Ma i ministri leghisti sono intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi? Basta una domanda, anzi la notizia di una domanda scoop della stampa questa mattina ad evocare ombre russe sulla campagna elettorale italiana. Se a farla è un importante funzionario dell'ambasciata russa a Roma, e cioè Oleg Kostyukov, e se l'interpellato è il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo Salvini, Antonio Capuano. Gli stessi protagonisti della attentata e poi bloccata trasferta del leader leghista a Mosca, deciso a intestarsi con benedizione russa un ruolo di mediatore. Kostyukov è il funzionario che aveva comprato il biglietto aereo mai utilizzato per Salvini. Capuano, l'ex forzista in rapporti strettissimi con l'ambasciata russa che aveva organizzato la missione e che peraltro ne aveva anche rivelato i contorni. Per la stampa che poggia il suo articolo su documenti di intelligence visionati in prima persona dall'autore del pezzo Jacopo Iacoboni, si tratta di un riscontro fattuale dell'interesse di Mosca alla destabilizzazione dell'Italia. Conta l'epilogo naturalmente la caduta di Draghi c'è stata col ruolo attivo del carroccio, conta il quando i documenti si riferiscono al 27 e 28 maggio, i giorni della battaglia parlamentare sui nuovi invii di armi all'Ucraina, con Lega e 5 Stelle ostili. Draghi ha parlato con Putin il 26, nei giorni successivi gli emissari del presidente russo fanno trasparire, scritto nei documenti citati dal quotidiano, il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del governo italiano. Siamo seri, mi risulta che a breve arriverà una smentita istituzionale, quindi avrete vissuto tre ore di fantasy, come spesso purtroppo capita, quindi ho fatto tutte le verifiche del caso, a livello istituzionale verrà smentito tutto quello che è stato pubblicato, il governo è caduto per scelta dei 5 Stelle. No ragazzi, arriveranno smentite a livello istituzionale, a livello, a livello, siccome si parla dei servizi italiani non risulta nulla di simile. E noi chiediamo conto, chiediamo la verità, vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi l'hanno fatto su un mandato, l'hanno fatto su un mandato di una potenza straniera che oggi è una potenza che aggredisce e rispetto alla quale noi non possiamo avere buoni rapporti. PD e Italia Viva chiedono che Salvini riferisca al Comitato parlamentare per la sicurezza e servizi. Anche Fratelli d'Italia chiede chiarezza. In attesa che si esprima Meloni si coglie l'imbarazzo del presidente del Copasir Urso, Fratelli d'Italia, che prova a chiudere il caso dicendo che il Comitato aveva già fatto tutte le audizioni sui rapporti fra la Lega e la Rustia e che adesso in campagna elettorale ci sarebbe il rischio di strumentalizzazioni. Si vedrà, ma intanto la questione rimbalza anche sul lato dei Cinque Stelle. Il ministro Di Maio chiede a Salvini di spiegare, ma aggiunge che quanto emerge dalle ricostruzioni della stampa fa il paio con il sostegno dell'ambasciatore russo Razov alla bozza di risoluzione contro l'invio di armi presentata da Conte. Parole che provocano la reazione sdegnata di Conte. Nessuno si permetta di gettare ombre su di noi, dichiara. Il sottoscritto non è andato in alcuna ambasciata russa né ha avuto contatti con esponenti del governo russo. Il sottosegretario con delega ai servizi Franco Gabrielli precisa che le notizie non sono attribuibili a fonti dell'intelligenza italiana e sono prive di ogni fondamento, come già riferito al Copasir in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi. E questo caso irrompe proprio sulla coalizione delle centrodestra che proprio ieri aveva trovato l'intesa sulla premiership sui collegi uninominali. Chi prende più voti indica il candidato premier. È soddisfatto Silvio Berlusconi che oggi dice di non avere nessun veto su Giorgia Meloni che ha l'autorevolezza per governare. La vicenda russa piomba sul centrodestra all'indomani dell'accordo appena raggiunto con gli alleati. Matteo Savvini minimizza e sottolinea la compattezza della coalizione. In tre ore abbiamo trovato l'accordo rivendica su programma, candidature e premiership. Il vertice vero e proprio dura in effetti fino alle nove. Il segretario leghista è il primo a uscire per impegni personali. Dieci minuti e anche Berlusconi lascia gli uffici della Camera. Segnale che l'accordo sui punti più importanti è stato raggiunto. L'incontro prosegue per un'altra ora con Giorgia Meloni impegnata a limare i dettagli con Calderoli e Giorgetti da una parte e per forza Italia con Tagliani e Ronzulli la prima ad annunciare la fumata bianca. Il vertice è ancora in corso quindi non le posso ancora dire niente ma è andato molto bene. Centrodestra è unito, ci candidiamo a governare il paese. Non si consuma lo strappo come ipotizzato da molti. L'accordo sul Premier è chiaro ed è quello che chiedeva Giorgia Meloni. Chi prenderà più voti esprimerà il nome del Presidente del Consiglio. Il Cavaliere oggi è netto. Giorgia ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo. Più difficile è stata la partita sui 221 collegi. Su questo la Meloni fa un passo verso gli alleati. Chiedeva il 50%, ottiene quasi il 45% frutto di una lunga mediazione tra l'algoritmo dell'esperto Calderoli e la media degli ultimi tre sondaggi chiesta da Fratelli d'Italia. 98 collegi facendosi anche carico degli 11 riservati ai centristi. La Lega ne avrà 70, poco più del 30% in linea con quello che si aspettava. Forza Italia e Udc 42, il 19% del totale. Ora la partita si sposta su un altro campo, stabilire chi si candida e soprattutto dove. I collegi non sono tutti uguali, blindati, sicuri, buoni o contendibili come sottolineato appena ieri dallo studio dell'Istituto Cattaneo. Intanto continua l'emorragia di parlamentari forzisti. È di ieri l'ultimo addio al Cavaliere, quello di Rossella Sessa, ma c'è anche un arrivo. Valentina Vezzali, il sottosegretario allo Sport che abbraccia Forza Italia. Più complesso invece definire le alleanze all'interno dello schieramento del centro-sinistra al momento quello che è certo è che non esiste più il campo largo e quindi si guarda al centro è stato avviato il dialogo con Calenda, mentre per Letta non ci sono veti su Renzi. C'è poi il cosiddetto partito dei sindaci. Sul fronte invece 5 Stelle dopo il diktat di ieri di Beppe Grillo. La questione del doppio mandato, ha detto questa mattina Giuseppe Conte, sarà risolta entro la fine della settimana. Di Maio con sala sì, calenda probabile, Renzi forse, Conte no. Questo è il borsino delle alleanze del centro-sinistra in mano al segretario Demmerico Letta, alle prese con incontri, trattative, vetti incrociati. Insomma, l'ormai ex campo largo guarda al centro. Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto, quello che leggi sui giornali, guardiamo, ci sentiremo, le parole di stamattina di Matteo Renzi, che forse lasciano uno spiraio aperto, pulse dalle colonne di avvenire l'ex rottamatore netto col PD. Ci è stato detto che portiamo meno voti di quelli che facciamo perdere. Lancia l'idea di un ritorno di Draghi in caso di pareggio e non lesina parole al vetriolo per un altro aspirante alleato dei Dem, Di Maio. Il PD lo vuole, mistero buffo. Un accordo con il leader di Italia Viva e osteggiato da una parte del Partito Democratico, ma non dal segretario Letta. Il primo contatto comunque c'è stato. Beti? Non alimentiamo il dibattito romano nei palazzi, dice il ministro degli esseri, Luigi Di Maio. Accordo chiuso col Partito Democratico, con Insieme per il Futuro, che diventerebbe una lista aperta ai sindaci, soprattutto civici, e con uno sponsor d'eccezione, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala. So semplicemente dando una mano, non ho ruoli operativi, dice. Avviato invece il dialogo con Carlo Calenda di azione. Unica pregiudiziale è il mantenimento del Noa ai 5 Stelle. Un primo incontro tra una delegazione d'emme e di azione sui collegi c'è stata, ma ancora nessuna ufficializzazione. La tentazione della corsa in solitaria rimane sul tavolo, ma c'è ottimismo sull'accordo, con i calendiani che continuano la loro campagna acquisti. Dopo Cangini sarà la volta della ministra Gelmini e non si esclude il colpo Carfagna, nonostante la smentita di un incontro tra Calenda e la ministra a voce circolata ieri pomeriggio. Guardando a sinistra invece della partita saranno gli esponenti di Aria Speranza, così come Fratoianni assieme ai Verdi. Non chiuda d'azione, dice l'esponente di sinistra italiana, ma per salvare la Costituzione da una destra che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta e la cambierebbe a colpi di bazooka servono anche 5 stelle. Ipotesi che viene ancora esclusa anche da chi in passato ha mostrato sensibilità più affini ai contiani, come Andrea Orlando della sinistra del PD. Non so quale sia il punto di arrivo di Conte, ma non lo considero un avversario strategico. Lo considero purtroppo un mancato alleato, dice il ministro del lavoro. Movimento alle prese non solo con l'isolamento elettorale, ma anche con le vicende interne legate al secondo mandato. Risolveremo in settimana sulle modalità anche per valorizzare esperienze e competenze, assicura Conte alle prese con la difficile mediazione tra le posizioni nette di Grillo, con annesse minacce di lasciare il movimento in caso di deroghe, poi smentite dallo stesso Conte, e le pressioni dei big in scadenza, come Taverna e il presidente della Camera Fico. C'è poi lo scenario economico. La guerra da una parte e l'inflazione dall'altra stanno peggiorando il quadro macroeconomico, ma nonostante il conseguente rallentamento della nostra economia, la crescita delle vendite dei prodotti industriali prosegue sia sul mercato interno che estero, come rilevano oggi i dati diffusi da Istat, però sono dati che vengono contestate dalle associazioni dei consumatori. Proprio poco fa anche l'Europa, la Commissione Europea ha diffuso altri dati che indicano che a luglio scendono ancora alle aspettative economiche di consumatori e imprese nell'Europa e nell'Eurozona. Meno 4,5 punti, questi dunque sono i dati che sono stati diffusi dalla Commissione Europea. Facciamo il punto. Non mostra segni di sofferenza l'industria italiana, almeno stando ai dati diffusi oggi dall'Istat. Il fatturato registrato a maggio ha messo a segno un aumento dell'1,4% su aprile e un corposo più 23,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Un risultato più che positivo che non si registrava dal 2000. Guerra e inflazione stanno cambiando in peggio il quadro macroeconomico, ma nonostante il conseguente rallentamento della nostra economia, la crescita delle vendite dei prodotti industriali prosegue sia sul mercato interno che estero. L'indice è importante perché misura l'andamento delle vendite e aumenta perché si vendono più prodotti oppure perché il prezzo di vendita è più alto o entrambe. Ed è questo il motivo alla base delle critiche delle associazioni dei consumatori che mettono in discussione il dato dell'Istat. È dopato dall'inflazione e dal caro energia, sostengono sia Codacons che l'Unione Nazionale dei Consumatori. A gonfiare il fatturato sarebbero in sostanza soprattutto gli extra profitti milionari dell'industria energetica portati a casa grazie all'impennata dei prezzi di gas e petrolio e non un'accelerazione delle attività dell'industria italiana. L'impennata dell'inflazione resta il nemico numero uno da combattere e contenere. Secondo i calcoli della Coldiretti i prezzi portati alle stelle dalla guerra in Ucraina metteranno in ginocchio molti italiani che spenderanno 9 miliardi in più solo per la spesa alimentare. Per difendere imprese, famiglie e lavoratori il governo è a lavoro per definire gli aiuti e mette a disposizione altri 14 miliardi e 300 milioni di euro. Nell'elenco delle cose da fare subito, da inserire nel decreto aiuti bis che dovrebbe essere varato la settimana prossima, ci saranno come anticipato ieri a sindacati e parti sociali il taglio delle tasse sul lavoro dipendente sotto i 35 mila euro annui, l'adeguamento all'inflazione delle pensioni a partire già da luglio anziché da gennaio, ma anche il bonus da 200 euro a precari e stagionali esclusi in precedenza. Poi la proroga degli sconti in bolletta, del taglio delle accise sui carburanti e dei crediti di imposta per le imprese. In arrivo poi da settembre anche un bonus mobilità da 60 euro per gli utenti del trasporto pubblico locale. I beneficiari, secondo quanto annunciato oggi dai ministri Orlando e Giovannini, saranno i cittadini con redditi inferiori ai 35 mila euro. E secondo i dati che sono stati diffusi dal IMSS, le domande di disoccupazione presentate a maggio, sono state oltre 107 mila, in crescita del 54% nel confronto annuo. E poi l'attenzione è tutta rivolta al gas, anche oggi il prezzo resta sopra i 200 euro a megawattora dopo il taglio dei flussi del gas voluto da Gazprom, il gas che passa attraverso il Nord Stream. Ma sul campo in Ucraina i missili sono tornati a colpire la regione di Kiev. Questa mattina, proprio mentre il presidente Zelensky parlava alla nazione in occasione della festa nazionale ucraina, una ventina di missili russi lanciati dalla Bielorussia hanno colpito la regione di Kiev. Sarebbero state danneggiate alcune infrastrutture, ma ancora non si sa se ci sono vittime. Più a sud da Mikolaev, nella notte, tre missili hanno distrutto una scuola, una persona è rimasta ferita. Sono le prime reazioni di Mosca dopo l'attacco ucraino di ieri al ponte Antonitsky, strategico lungo il fiume Nepro, vicino a Kherson, nel sud del paese. Lo ha bombardato con i missili americani HIMARS, con l'obiettivo di sbarrare la strada ai russi, che da settimane occupano la regione. Un'area strategica, perché è adiacente alla Crimea e al Mar Nero, ed è una delle maggiori produttrici di grano di tutto il paese. Gli ucraini vogliono riprenderla entro settembre, prima che all'arrivo dell'inverno aiuti i russi a difendere le posizioni. Per questo, per accelerare la tanto attesa controoffensiva a sud, che potrebbe cominciare da un momento all'altro, il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati altri aiuti. Gli Stati Uniti, però, che hanno già stanziato aiuti militari per oltre 8 miliardi di dollari, per non provocare ulteriormente Mosca, starebbero valutando, insieme con i partner della Nato, di fornire armi migliori, soltanto in risposta alle avanzate russe, non prima. Sul fronte diplomatico, intanto, dopo mesi di stallo c'è attesa per una telefonata che potrebbe tenersi nei prossimi giorni, fa il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro russo degli esteri Sergei Lavrov. Riflettori puntati anche sulla guerra del gas. Sebbene Gazprom oggi ha dichiarato che la sua fornitura all'Europa attraverso l'Ucraina, tramite il punto di ingresso di su già, è stabile a 42 milioni di metri cubi, resta da capire se e quando normalizzerà il flusso del Nord Stream 1, che arriva in Germania, ridotto ieri al 20% della capacità. Al momento il prezzo del gas oscilla intorno a quota 200 euro a megawattora. Il piano europeo per l'emergenza gas appena firmato dovrebbe mettere a sicuro i 27 Stati membri per il prossimo inverno. In Italia il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani non vede rischi di grandi razionamenti e fa sapere che con gli attuali piani di stoccaggio avremo gas sufficiente fino a febbraio, nel caso in cui la Russia dovesse interrompere completamente le forniture. E cresce la tensione tra Stati Uniti e Cina per la possibile visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taipei. Probabilmente la visita sarà al centro della telefonata che ci sarà nelle prossime ore tra il presidente americano Biden e il presidente cinese. Scongiurare il rischio che i contrasti tra Stati Uniti e Cina acuiscano la già alta tensione in corso tra le due superpotenze. È questo l'obiettivo del colloquio telefonico che si terrà nelle prossime ore tra Joe Biden e Xi Jinping, il quinto solo virtuale, dall'insediamento del nuovo inquilino alla Casa Bianca nel gennaio del 2021. Temi principali, la questione di Taiwan e la possibile imminente visita sull'isola della speaker della Camera dei rappresentanti, la leader democratica Nancy Pelosi e l'invasione russa dell'Ucraina. Guarito dal Covid a tempo di record, il presidente degli Stati Uniti affronta l'escalation di Tony avviata da Pechino sulla missione di Pelosi a Taipei, che, in quanto più alto funzionario di un'amministrazione a stelle strisce in visita sull'isola negli ultimi 25 anni, è considerata un affronto, fa sapere il Ministero degli Esteri cinese. La Repubblica Popolare, avverte, è pronta a misure decise ed energiche per contrastarla e invita Washington ad esercitare pressioni affinché la numero uno della Camera rinunci al viaggio. Nonostante Taiwan abbia un governo eletto in modo democratico, la Cina non ne riconosce l'indipendenza, al punto che da mesi si moltiplicano i timori di una possibile invasione cinese sull'isola, una replica di quanto fatto dalla Russia con la regione del Donbass. Per l'intelligenza americana, la visita di Pelosi in questo periodo sarebbe una pessima idea. Neppure i ripetuti contatti tra funzionari dell'amministrazione Biden e l'ufficio della Speaker sembrano convincerla ad esistere. Nella videotelefonata, il presidente americano ribadirà al collega cinese il sostegno degli Stati Uniti alla politica dell'unica Cina, assicura intanto il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, precisando che il dialogo verterà anche sulla guerra in corso in Ucraina. L'agenzia Chiodo però riferisce di una visita di Pelosi in Giappone prevista per inizio agosto, in cui la leader della Camera discuterà col suo omologo giapponese Hiroyuki Osoda e col primo ministro Fumio Kishida del conflitto in Ucraina e della crescente assertività cinese nei mari. Intanto, in occasione della celebrazione del 69esimo anniversario dell'armistizio che pose fine alla guerra di Corea nel 1953, il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di annientare Seoul, il cui presidente Yoon Suk-yeol si è insediato il 10 maggio scorso e si dichiara pronto a mobilitare il deterrente nucleare contro gli Stati Uniti. Intanto torna il lockdown a Wuhan, la città della Cina centrale, dove è stato registrato per la prima volta il coronavirus. Quasi un milione di persone sono state e poste in isolamento nelle loro abitazioni per tre giorni. A fare scattare le misure restrittive è stata l'identificazione di quattro case di Covid asintomatici. È la prima volta dal 2020 che la metropoli cinese, con 12 milioni di abitanti, applica le disposizioni anticontagio. In Italia, invece, l'Istituto Superiore di Sanità rende note le linee guida per la ripartenza delle scuole a settembre. A reazione dei locali per allontanare il pericolo di contagio e ripartire in sicurezza nelle scuole anche senza mascherine. La ricetta per ricominciare a settembre è nelle linee guida dell'ISS, ora sul tavolo del Ministero dell'Istruzione, e passa da uno dei punti delicati della gestione di la reazione dei locali, che nello scorso inverno si è risolta nelle scuole, per lo più tenendo le finestre aperte, con alunni e insegnanti costretti a mettere e togliere cappotti e piumini. Un sondaggio della Fondazione Gimbe, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Presidi, indica che solo il 9% delle scuole è riuscita a installare sistemi di ventilazione meccanica. Il nuovo documento dell'Istituto Superiore di Sanità affida ai dirigenti scolastici la valutazione su come attuare il ricambio d'aria in classi che troppo spesso ospitano fino a 28 alunni. L'Istituto Comprensivo di Via Magnago a Milano ha investito 23 mila euro dei fondi Covid per acquistare sanificatori d'aria. Utilizzando dei fondi ministeriali, noi l'anno scorso, proprio durante l'estate, abbiamo provveduto a dotare tutti i nostri spazi, quindi sia le aule, i laboratori, le palestre, di sanificatori dell'aria, cioè in pratica di apparecchiature che assorbono l'aria contaminata degli spazi e la riemettono sanificata. In questo modo c'è un continuo ricambio dell'aria e non siamo obbligati a tenere sempre aperte le finestre. A settembre si ricomincerà con o senza mascherine? Ancora non si sa voi cosa auspicate? Il desiderio è riportire senza mascherine, soprattutto se in tutti gli altri settori le mascherine non vengono utilizzate, perché altrimenti è molto difficile spiegare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie perché nella scuola sì e nel resto del mondo no. È chiaro che noi non siamo un presidio sanitario, quindi ci atteniamo alle regole che ci vengono date. L'uso delle mascherine in classe non è ancora stabilito, ma almeno all'inizio del nuovo anno scolastico resteranno le principali misure anti-Covid, distanza e sanificazione. Del resto è verosimile che con l'aumento dei primi freddi crescerà anche la circolazione del virus, stima Fondazione Gimbe, che nel monitoraggio dal 20 al 26 luglio ha registrato per la seconda settimana consecutiva un calo dei contagi del 25%, ma un aumento della mortalità a più di 1.000 i decessi. Il picco di ricoveri, avverte l'associazione, non è ancora stato raggiunto. Andiamo a vedere adesso i danni provocati dalle piogge torrenziali in provincia di Brescia, in Valcamonica. Una scarica di fango e rocce ha investito Niardo e Braone, due piccoli comuni della Valcamonica in provincia di Brescia. Un nubifraggio di un'ora è riuscito a causare il finimondo sulla vallata Lombarda, quando due torrenti in stecca da mesi, il Re e il Cobello, sono usciti dagli argini travolgendo i centri abitati. Non ci sono stati feriti ed è andata bene a vedere gli alberi sradicati e le rocce trascinate a valle, ma i danni sono gravi e sono state evacuate 30 persone in una zona che ancora ricorda l'alluvione del 1987. Allora ci furono due vittime. Fortunatamente oggi, rispetto a 35 anni fa, non dobbiamo contare vittime, ma dobbiamo contare comunque ingenti danni alle infrastrutture e ingenti danni a molti fabbricati. In alcuni punti il fango ha raggiunto un'altezza di un metro e mezzo e molti edifici restano impraticabili. In tutta l'area è interrotto il gas, mentre si sta ripristinando la corrente elettrica. Bloccate la linea ferroviaria e la statale 42, principale via di accesso alla vallata, ora parzialmente riaperta. Operative da tutta la notte diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate dall'intero territorio lombardo. La regione ha attivato subito gli interventi per reincanalare i torrenti nel loro letto. Questa è la priorità, mentre si lavora per capire l'origine del disastro. Dopo l'alluvione c'erano stati interventi sul letto dei torrenti e l'ultima opera di manutenzione è recente. Gli amministratori locali non escludono che ci sia stato un distacco a monte. Sembrava un terremoto, hanno raccontato. Si capirà di più sorvolando la zona in elicottero. Al confine fra Trentino e Slovenia, intanto, è di nuovo il fuoco a destare preoccupazione. Il carso brucia ormai da dieci giorni e le fiamme, che ieri sembravano tornate sotto controllo, nella notte hanno ripreso vigore. Il sindaco di Gorizia ha denunciato che i nuovi focolai hanno una evidente origine dolosa. Questa volta si è sviluppato un rogo sul monte Brestovec, che è alimentato dal vento, ha costretto a evacuare 25 famiglie a Savogna di Sonzo, in provincia di Gorizia. Sul fronte migranti si tenta di alleggerire il centro di accoglienza di Lampedusa, con l'arrivo di un traghetto e di una nave della Guardia Costiera. Sbarchi, trasferimenti e nuove operazioni di soccorso in mare, cronache quotidiane della questione migranti. È imminente l'arrivo a Porta Empedocle dei 600 profughi, che poi saranno spostati, come previsto, nei vari centri d'accoglienza, a bordo del pattugliatore d'altura 18, nell'ennesimo tentativo di alleggerire l'hotspot di Lampedusa, dove al momento restano circa 1800 persone, comunque troppe per la capienza massima della struttura. Una situazione destinata a ripetersi al centro dell'incontro avvenuto ieri al Viminale, tra la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Riunione in cui è stata stabilita l'assegnazione al comune dell'isola di circa 450 mila euro per lo smaltimento straordinario dei rifiuti provenienti dall'hotspot. Sforzi intensificati anche dal noleggio di un traghetto, che secondo le previsioni effettuerà tre collegamenti a settimana tra Lampedusa e la Sicilia, per aiutare l'isola a sostenere meglio il peso della prima accoglienza dei profughi. Altri 150 saranno trasferiti nelle prossime ore con la nave Foscari della Marina Militare. L'emergenza sbarchi coinvolge anche il Siracusano, dove nella notte se ne sono registrati tre. Due imbarcazioni sono approdate a Portopalo di Capopassero e in una di queste la polizia ha rinvenuto un cadavere. Il terzo barcone invece è arrivato nel porto di Augusta a 350 stranieri, che come da prassi sono stati sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Ma per quanti riescono a toccare terra, altrettanti restano ancora in mezzo al mare. Sono oltre 1.400 infatti le persone a bordo delle navi umanitarie, che allo stato attuale stanno ancora cercando un porto sicuro in cui attraccare. La Geo Barrens di Medici Senza Frontieri, la Ocean Viking di SOS Mediterranea, Sea-Watch 3, che proprio nelle scorse ore ha segnalato la presenza al Tribunale dei Minori di Palermo di ben 128 minorenni a bordo, la maggior parte dei quali non accompagnati. Dall'Unione Europea la notizia è che nello scorso mese di maggio sono state presentate oltre 70.000 domande di asilo nei paesi comunitari. A evidenziare il rapporto pubblicato dall'Agenzia dell'UE per l'asilo, negli ultimi 8 anni sono stati cittadini turchi e georgiani a presentare il maggior numero di richieste. Il rapporto dell'Associazione Antigone descrive ancora una situazione ancora complessa nelle carceri italiane, anche se molto è stato fatto. Carceri senza acqua e sovraffollate come in nessun altro paese europeo, con meno di 3 metri quadrati in cella garantiti a detenuto e teatro negli ultimi mesi di oltre un suicidio ogni 5 giorni. L'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone sulle condizioni detentive in Italia presentato oggi non contiene novità incoraggianti e anzi delinea una situazione di sempre maggiore allarme. Lo studio prende in esame un campione di 96 istituti di pena su un totale di 189 e racconta una realtà sempre più difficile per chi sconta una pena nel nostro paese. Negli ultimi due anni è cresciuto il numero delle persone che si sono tolte la vita in carcere. statisticamente i casi di suicidio accertati risultano superiori di 13 volte rispetto a quanto avviene all'esterno. Da gennaio a oggi nelle case circondariali italiane sono stati 39, un numero altissimo che richiama da vicino il biennio 2010-2011 quando a causa del sovraffollamento fu proclamato lo stato di emergenza penitenziaria. La fascia di età più rappresentata tra chi ha deciso di togliersi la vita, e questo è allarmante, è la fascia giovane. Il rapporto evidenzia molte criticità. Celle in cui è impossibile garantire lo spazio vitale senza frigo e docce, con pochi ventilatori e schermature alle finestre che impediscono il passaggio dell'aria. In alcuni casi perfino l'acqua razionata, come accade nella casa di reclusione di Augusta in Sicilia. L'osservatorio permanente di Antigone denuncia gravissimi disagi, soprattutto in queste settimane di temperature roventi, che si abbattono su una condizione di sovraffollamento cronico, con 54.841 detenuti attualmente ospitati nelle carceri, a fronte di una capienza di 50.900 posti, di cui 3.600 non sono di fatto utilizzati. Significa che il tasso di affollamento reale nei nostri istituti di pena è in media al 112%, con picchi del 150 o addirittura del 190, come negli istituti di Latina e il San Vittore di Milano, ben oltre la media dell'Unione Europea, che è del 92%. Nei primi sei mesi dell'anno cresce anche il numero dei bambini ospitati in carcere con le loro madri. All'inizio del 2022 erano 15 le mamme detenute con 16 minori. Al 30 giugno scorso risultano presenti 24 donne con 25 figli. Quanto alla permanenza negli istituti di pena, sottolinea ancora il rapporto, crescono le condanne all'ergastolo, nonostante il costante calo di omicidi. Il fine Penamai riguarda 1.840 persone, il 16% in più rispetto a 10 anni fa. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 92 anni è morto lo scrittore e critico letterario Piero Citati, nato a Firenze nel 1930, fin dagli anni 50 citati ha affrontato gran parte della letteratura mondiale, da Omero a Proust fino a Manzoni, Tolstoi, Kafka e Leopardi. È stato un grande narratore di storie di donne e uomini straordinari e proprio con due biografie aveva ottenuto premi prestigiosi, il Viareggio nel 1970 con il suo Goethe e lo strega nel 1984 con la biografia di Tolstoi. Ci fermiamo adesso, c'è la pagina sportiva, subito dopo la pubblicità, tra poco. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dalle calciola. Juventus in ansia per l'infortunio di Pogba, mentre Milan e Roma preparano nuovi colpi di mercato. Operazione chirurgica o sutura della zona infortunata. Paul Pogba è rientrato dagli Stati Uniti con una lesione al menisco laterale del ginocchio destro ed oggi avrà un consulto medico per capire la strategia da intraprendere, quale intervento effettuare e la durata dello stop. La paura del centrocampista francese, tornato alla Juventus dopo sei anni, è quella di saltare il mondiale che inizierà tra quattro mesi in Qatar. Nel frattempo la dirigenza bianconera si muove sul mercato per ridisegnare la mediana. L'obiettivo resta l'argentino Leandro Paredes. Ormai ai margini del Paris Saint-Germain, l'ex di Empoli e Roma spinge per il trasferimento a Torino, dove però devono prima sfoltire il reparto. Destinato alla partenza è il brasiliano Artur, sul quale c'è il Valencia. La squadra allenata da Gattuso chiede il regista in prestito secco, ma la Juventus vuole che lo stipendio del giocatore, 6 milioni più 2 di bonus, sia tutto a carico del club spagnolo. Possibili sviluppi in giornata. Sempre per oggi è attesa la chiusura della telenovela de Ketteler. Il Milan ha alzato l'offerta per il giovane trequartista, offrendo al Bruges 31 milioni più 4 di bonus. La risposta del club belga arriverà nelle prossime ore, con i rossoneri pronti a fare un ultimo sforzo, aprendo alla concessione di una percentuale sulla futura rivendita del talento fortemente voluto da Pioli. Per la gioia di Simone Inzaghi, è invece sempre più vicina la permanenza di Skriniar all'Inter. Il Chelsea sta spostando le sue attenzioni su altri difensori e si è raffreddato anche l'interessamento del Paris Saint-Germain, pronto a liberare Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è a un passo dalla Roma. I giallorossi puntano al prestito secco e a far pagare ai francesi una parte dei 9 milioni di ingaggio, consegnando a Mourinho un altro pezzo da 90 dopo il colpo di Bala. Infine il Napoli, ufficializzato l'arrivo del difensore coreano Kim, Spalletti rischia di perdere Zienliski. Il West Ham, che ha già preso Scamacca dal Sassuolo, mette sul tavolo 36 milioni per il centrocampista polacco, ma dell'Aurentis ne chiede almeno 40. E al netto della cronaca sportiva, nella sfida andata in scena ieri a Istanbul, tra il Fenerbahce e la Dinamo Kiev, valida per i preliminari di Champions League, tifosi e turchi, hanno inneggiato cori pro Putin. Stranezze di un sorteggio che, nella massima rassegna del calcio europeo, ha messo di fronte i padroni di casa del Fenerbahce e gli ucraini della Dinamo Kiev. A indirizzare la sfida dopo lo 0-0 dell'andata, è stata l'espulsione decretata dall'italiano Irrati a inizio ripresa sul brutto fallo del turco Yüksek ai danni di un avversario. Due minuti dopo, infatti, la Dinamo Kiev è passata in vantaggio sul tocco sottomisura di Vitali Bujalski. E a quel punto, che in segno di scherno agli avversari, l'intero stadio ha lanciato un coro inneggiante al presidente russo Vladimir Putin. Episodio che ha provocato reazioni da ogni parte con l'UEFA che potrebbe ora sanzionare il club turco. Nel porosiego della partita, dopo che l'equadoriano Enner Valencia si era fatto ribattere un calcio di rigore da lui stesso conquistato, il Fenerbahce ha comunque ottenuto la parità all'ottantottesimo sul colpo di testa da calcio d'angolo dell'ungherese Attila Salai e che ha rinviato ogni decisione ai tempi supplementari, dove la superiorità numerica ha senza dubbio agevolato il compito della Dinamo Kiev, che ha ottenuto il gol vittoria al minuto 114 grazie a un destro radente di Oleksandr Karawaj, ucraini che accedono così al terzo turno preliminare di Champions, dove affronteranno gli austriaci dello Sturm Graz. C'è il primo storico trionfo delle sette belle azzurro nella World League di pallanuoto, nella finale disputata a Strasburgo, i ragazzi di Sandro Campagna hanno battuto gli Stati Uniti per 13 a 9 e questo è il primo successo per l'Italia nella World League dopo i tre argenti conquistati nelle precedenti edizioni e che fa seguito al secondo posto conquistato lo scorso 2 luglio ai mondiali di Budapest. E chiudiamo la pagina sportiva con il tennis. Sinner ha conquistato i quarti di finale degli Open di Croazia battendo lo spagnolo Munar. Gli Open di Croazia non avranno il prestigio di Wimbledon o di altri grandi tornei ma vedere tre tennisti italiani ai quarti di finale che potrebbero addirittura diventare quattro se Franco Agamemnon nel pomeriggio batterà l'argentino Sebastian Baez non può non fare effetto. L'ennesima conferma di quanto è cresciuto il tennis azzurro in assenza di Matteo Berrettini l'uomo di punta e Yannick Sinner ha battuto lo spagnolo Munar con un doppio 6-4 mostrando il suo tennis spietato il solito rovescio a due mani sempre perfetto il dritto spiazzante oltre a tutto questo e non è poco si è vista anche la voglia di cercare variazioni a un gioco definito sicuramente brillante che però ha un rischio la ripetitività da qui le pale corte le smorzate le dicesi a rete lampi del nuovo Sinner insomma ma la vittoria contro Munar è importante anche per rafforzare la posizione dell'italiano in un'altra interessante classifica quella che fotografa la percentuale di partite vinte nel corso dell'anno solo Nadal Djokovic e Alcaraz hanno fatto meglio di lui sto crescendo non mi pongo limiti il commento di Sinner dopo la vittoria tradotto significa che gli Open di Croazia sono l'obiettivo certo perché portano punti ma il pensiero dell'alto a Tesino va oltre il mio sogno di bambino confidato è vincere un grande torneo la grande occasione potrebbe arrivare molto presto a fine agosto infatti cominceranno gli Open degli Stati Uniti dove non ci saranno sia Zverev perché infortunato sia Djokovic perché non vaccinato futuro prossimo pieno di belle promesse ma anche un presente che racconta di un Sinner appena sbarcato ai quarti degli Open di Croazia con lui c'è anche il romano Zeppieri che ha sconfitto in 3-7 il colombiano Galan e ci sarà anche uno tra Musetti e Cecchinato che si affronteranno nel pomeriggio un anno fa sulla terra rossa parigina la spuntò il Toscano ma solo al quinto set è tutto la prossima edizione torna alle 20 grazie per averci seguito buona giornata grazie a tutti